Sono tanti giocatori nuovi, giovani e vecchi, il lavoro quotidiano e anche il ritiro, perché comunque in pochi sono arrivati adesso, la maggior parte comunque siamo partiti insieme per il ritiro, quindi abbiamo affrontato tre settimane insieme, stando tutti i giorni insieme, mattina e pomeriggio, ma anche adesso a momenti siamo più in tempo noi insieme che con le nostre famiglie, quindi il lavoro quotidiano ci aiuta di più giorno dopo giorno a fare gruppo, perché solo con il gruppo, come ho detto prima, possiamo colmare quelle difficoltà che incontreremo durante il corso dell'anno. È un gruppo importante, è un gruppo che rema veramente tutti dalla stessa parte, è un gruppo tra virgolette con le palle e può portare tanto. Tanti volti nuovi vuole dire anche tanta concorrenza, quali benefici e quali contro ha una rosa lunga come questa e dove può arrivare una squadra così? Beh, contro comunque sono pochi, perché se remiamo come ho detto prima tutti dalla stessa parte, sia che giochi meno che giochi poco, l'importante è raggiungere obiettivi importanti. La concorrenza è fondamentale, soprattutto in uno sport di squadra, perché come nel calcio aumenta la concorrenza e aumenta il tasso di intensità durante gli allenamenti. Uno che non gioca, io l'ho sempre detto, sempre pensato, è che la forza della squadra è chi non gioca, perché permette a chi gioca di allenarsi e io che non gioco voglio dimostrare al mister che posso meritarmelo e quindi aumento l'intensità e di conseguenza chi gioca deve mantenere lo stesso livello. E quindi è fondamentale, soprattutto come hai detto te, se vogliamo fare un campionato importante. Poi il campionato che faremo lo deciderà solamente il campo, che è il giudice, che ci dirà a che squadra siamo e dove possiamo arrivare. Si è partiti male con la sconfitta di Viterbo, dove tu non c'eri, quindi prima di tutto ti chiedo come stai, se ti sei ripreso. E poi come si può reagire con un inizio di campionato anche molto difficile, dove si affronteranno anche le tre retrocesse della Serie B? Beh sì, la partita di Viterbo ormai è archiviata, come ha detto anche il mister, siamo un gruppo con alcuni che sono arrivati adesso, quindi devono recuperare la condizione, non hanno fatto ritiri, ma saremo sicuramente pronti per domenica, per il Cesena. Sappiamo che è un campionato livellato, noi ci preoccupiamo, sì, dell'inizio difficile sulla carta di squadre importanti, ma sicuramente con la squadra che siamo io penso che anche le altre squadre si preoccuperanno di incontrare il Gubbio. Quindi adesso ripeto, sta a noi scendere in campo, sta a noi a vincere le più partite possibili per toglierci soddisfazioni noi, la società e la città.